Bene, ultimo video di quest'oggi, ovviamente sempre dati forniti al mio caro amico Nicolino dal suo egregio lavoro, parliamo di serial, presentiamo il turno numero 6, ovviamente il girone di andata, si parte direttamente domani, niente anticipo del venerdì per questa giornata domani avremo Crotone, Atalanta alle 15, Inter, Parma alle 18, Bologna, Cagliari alle 20.45 Udinese, Milan, domenica alle 12.30, domenica alle 15, Spezia, Juve, Torino, Lazio alle 18, Napoli, Sassuolo e Roma, Fiorentina alle 20.45, Sampdoria a Genua, il derby della Lanterna, posticipo del Montenegro alle 20.45, Verona a Benevento. La classifica vede al momento il Milan in testa a quota 13, secondo Napoli e Sassuolo a 11, quarto Inter a 10, quinta la Juve a 9 con l'Atalanta e la Sampdoria, a 8 il Verona e la Roma, a 7 la Fiorentina, a Cagliari, Lazio, a 6 il Benevento, Spezia a 5, Genova e Parma a 4, Bologna a 3, zona retrocessione Udinese a 3 punti Torino e Crotone a 1. Bene, grazie a voi tutti per l'attenzione, noi ci vediamo ora definitivamente domani per altri video, ciao a tutti e buon proseguimento, a sta la vista, ciao!